Musica Se possiamo ingannarci credendo che abbiamo bisogno ora di qualcosa che oggettivamente è illusorio, non possiamo ingannarci però circa il nostro desiderio di vita che è turbato dalla morte. Qui è chiaro, solo Dio è il risolutore. Sono le parole scritte pochi giorni prima della sua scomparsa da Giovanni Calzone, giovane docente di filosofia, morto 25 anni fa in un incidente stradale. Aveva soli 26 anni Giovanni, ma la sua breve vita fu ed è ancora oggi un esempio per quanti lo hanno conosciuto. Toccato dalla grazia di una fede viva, aveva un sentimento profondo e religioso della vita, che può essere ritrovato nel libro Si prospettano giorni felici, presentato presso il Palazzo Arcivescovile di Benevento dall'Associazione di Cultura Giovanni Calzone. Pina Calzone è la presidente del Centro di Cultura Giovanni Calzone, ma innanzitutto è la sorella di Giovanni. Allora, a questo libro Si prospettano giorni felici. Perché questo titolo e soprattutto che valore assume oggi, quando soprattutto tra i giovani c'è malcontento e sfiducia? Beh, il titolo è, questo è solo l'inizio di una frase di Giovanni, la frase continua così, Si prospettano giorni felici perché ho chiesto al Signore di poterlo servire. Don Giustani, quando ha commentato questa frase, subito dopo la morte di Giovanni, Don Giustani, il fondatore di Comunione e Liberazione, diceva, Un ragazzo di 26 anni che dice, si prospettano giorni felici perché ho chiesto al Signore di poterlo servire. Non perché ho conseguito una laurea brillantemente, non perché ho una bellissima ragazza al mio fianco, non per tutte le soddisfazioni che la vita, perché sono un ragazzo intelligente, ho tante veramente occasioni di riconoscimento dalla società, ma perché ho chiesto al Signore di poterlo servire. Ma questa è una sfida, questo è un riconoscimento suo, ma è una sfida per tutti noi. Ed è questa cosa qui, io giorno dopo giorno la riscopro. Se oggi dovessi dire, per me questa è una strada, no? E la strada che io sto percorrendo con Comunione e Liberazione, che è l'alvio in cui Giovanni ha maturato la sua esperienza e dove mi ha introdotto lui. Devo dire, oggi, la domanda che faceva anche Dostoevsky, no? Come la fede può interessare ancora oggi il cuore dell'uomo, l'uomo, l'uomo di oggi? Può interessarlo perché punta sul cuore, punta sul suo desiderio, punta sul cuore di ciascuno di noi. E questa è la sfida per tutti, è un'occasione per tutti. Ecco, io ho aperto a caso una pagina del libro e all'inizio c'era proprio l'allegrezza e all'origine della speranza. Quindi se Giovanni oggi fosse ancora qui tra noi esorterebbe i giovani a non mollare? Sì, assolutamente, ma ad andare a fondo al proprio desiderio, questo esorterebbe Giovanni. Ma quello che esorta la Chiesa, no? Perché quello che diceva Giovanni è proprio dentro la Chiesa, non è fuori. Di puntare sul proprio desiderio, sul desiderio vero, sul desiderio vero che c'è nel cuore di ciascuno di noi. Di lui resta l'immagine di un giovane riservato, il ricordo del suo sorriso, della sua passione per il calcio, del suo impegno nel sociale, delle sue riflessioni, del suo amore per la vita all'ombra della fede. Corrado Nierre, relatore, ma innanzitutto amico di Giovanni Calzone. Ecco, un libro di Giovanni a 25 anni dalla sua scomparsa. Che messaggio può dare soprattutto in questo momento storico? Ma io penso che le cose che ha scritto Giovanni, che poi tra parentesi è un libro che venne già pubblicato, ma con una casa editrice, diciamo, di nicchia e adesso è stato ripubblicato con la Marietti, le cose che ha scritto Giovanni sono cose assolutamente atemporali, cioè nel senso che Giovanni ricercava molto la dimensione del fondamento, la dimensione della verità. E noi sappiamo che per quanto riguarda il fondamento e per quanto riguarda la verità non esiste nessun tipo di prospettiva temporale perché è ciò che ricerca costantemente l'uomo. E certo, in questo periodo di forte disorientamento e di relativismo, di nichilismo, le cose che ha scritto Giovanni hanno una dimensione profetica, cioè sono un segno importante, sono un segno molto importante. Ecco, un ricordo di Giovanni Calzone, morto in giovanissima età, ma nella sua breve vita ha creato davvero tanto, è stato molto attivo e più maturo dell'età che comunque aveva. Sì, sì, sicuramente molto più maturo. Infatti io e Giovanni eravamo coetani, siamo tutti e due del 62, peraltro io ho qualche mese un po' più anziano, però Giovanni era molto più grande di me. Cioè nel senso che io quando ho conosciuto Giovanni mi sono subito accorto del fatto che era molto più avanti di me nella dimensione della fede, anzi io fondamentalmente devo a lui la scoperta della fede, non perché non credessi, ma perché ho visto in Giovanni una testimonianza significativa, una testimonianza autentica, cioè questa capacità di vivere la vita pienamente ma di sapere andare oltre. E questo mi ha profondamente toccato, tant'è vero che io poi quando lui già era cresimato, quando ho deciso di cresimarmi, non potevo che chiedere a lui di poter essere mio padrino. E quindi era sicuramente una persona diciamo che anticipava molto più matura dell'età che aveva. E piace concludere con una frase che calza bene al nostro momento storico. Ci troviamo distratti, abbiamo due possibilità, rimetterci in careggiata o lasciarci trasportare. Da questi sì o no si giunge alle risposte decisive. A partire da questo attimo si costruisce o si demolisce, non si può conservare. Neanche il palazzo dopo essere stato edificato si conserva, esso invecchia, deperisce. Allo stesso modo noi, ogni attimo, o si cresce o si arretra. Così scriveva Giovanni il 20 giugno del 1984. Emilia Biondi è la vicepresidente del Centro Culturale Giovanni Calzone. Allora, un libro che viene ristampato con una casa editrice più importante. Perché? A 25 anni dalla scomparsa di Giovanni. Perché Don Giussani ha insistito moltissimo che fosse ristampato e ugualmente Don Carron. In particolare, dopo la morte di Giovanni, Don Giussani rimase così colpito da quello che lui aveva scritto che tutti gli esercizi spirituali lui li sviluppò sui pensieri di Giovanni. Ugualmente anche il triduo pasquale che egli fece nel 1988. Si tratta di pensieri di Giovanni Calzone. Come possono essere contestualizzati in questo momento, soprattutto come messaggio ai giovani? Che l'avvenimento cristiano non è una vana parola, né un discorso, ma un uomo che accade e che cambia la vita fino ad afferrare alcuni nel donno totale di sé. Perché non dimentichiamo che insieme a Giovanni Calzone nell'incidente morì un altro ragazzo di Benevento, Massimo Cioncada. Grazie a tutti.